All'Ario Fiere di Erba torna Fornitore Offresi, il Salone Internazionale della Subfornitura Meccanica. L'appuntamento con la 14esima edizione in calendario dal 9 all'11 febbraio. Tre giorni di incontri dove le aziende subfornitrici del settore meccanico promuovono le proprie capacità e allacciano rapporti d'affari. Un'occasione per diffondere le competenze tra imprese diverse e complementari. Presenti all'appuntamento oltre 600 aziende di settore espositrici. In totale questa edizione segna 57 espositori in più rispetto allo scorso anno con un aumento del 20%. È una manifestazione di grande successo, una crescita del 20% sull'edizione passata del 2022. Ragioniamo di oltre 600 aziende espositrici tra dirette e rappresentate, 365 dirette e 260 rappresentate. Insomma una manifestazione importante internazionale con aziende tedesche, aziende rumene, aziende europee che espongono. Quindi uno sviluppo veramente interessante anche in termini di visitatori nazionali e internazionali. Quindi bene, siamo contenti, abbiamo dovuto utilizzare addirittura uno spazio, diciamo convegni per espositori. E quindi insomma un po' scherzando, un po' no, dicevo perché non pensare a un nuovo padiglione in più alla Rio Fiere. Tra le iniziative in programma non mancheranno inoltre momenti di confronto dedicati al tema imprese, formazione e occupazione.